Signori buongiorno, allora ieri 15 giugno sulla ruota di Firenze al secondo colpo è sortito l'ambo 1177 quindi su tutte ambo al secondo colpo e visto che stavolta vi volevo tenere partecipi delle mie giocate quindi vi faccio vedere ancora una volta la mia giocata e come sto usando il recupero su tutte in parole povere con ieri sono andato a pari delle mie spese quindi con questo ambo di ieri io vado a pari e naturalmente lo scopo è quello di centrare la ruota di Milano con questo è tutto e vi ricordo ancora con 5, 11 e 77 ci sono ancora due colpi su Milano e su tutte con questo vi saluto, ciao!